Il 26 settembre, una data che l'Umbria non può dimenticare perché esattamente 15 anni fa, il 26 settembre 1997, cominciò il calvario del terremoto, le prime devastanti scosse e poi tante altre, un sisma che sembrava non finire mai, che disseminò ferite profonde. Allora sfogliamo insieme questa pagina dolorosa della storia della nostra regione con Antonella Marietti. Dove era signora? Era a letto lei? Sì, ma no, qui, io stavo dalla vecchietta, fai le compagnie sempre per paura del terremoto. Senta, questa è casa sua ovviamente. Eh sì, è casa di mia madre. Lei era qui? No, a Foligno. Buon pomeriggio, il nostro telegiornale sarà integralmente dedicato al devastante terremoto che questa notte ha colpito l'Umbria, con epicentro tra Foligno e Colfiorito, nel confine tra Umbria e Marche. 26 settembre 1997, l'Umbria inizia a tremare di notte alle 2.33 e continuerà a farlo per quasi un anno intero, magnitudo 5.8 con epicentro accesi. Sempre 26 settembre, mattina inoltrata, ore 11.42, quello che nessuno si aspettava, esperti compresi, scossa di magnitudo 6.1 e il nono grado della Mercalli, con epicentro nel Folignate ad Annifo. È la scossa che butta giù la volta della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, sotto le cui macerie moriranno in quattro, due frati e due tecnici che stavano effettuando i rilievi. Questa è e rimane l'immagine simbolo di una tragedia ben più ampia e complessa. Quelle del 26, infatti, furono solo le più forti di altre mille scosse che fino all'aprile 1998 hanno tenuto in scacco la nostra regione e le vicine Marche. 7 ottobre, magnitudo 5.3, ancora epicentro a Colfiorito. 14 ottobre, ore 17.25, non finisce, una scossa di magnitudo 5.5, infierisce su situazioni già gravemente compromesse come quelle di Sellano e Preci. Cade il torrino di Foligno in pieno centro, un'altra immagine che non si cancellerà. Le vittime in tutto furono 11, 100 i feriti, uno sciame sismico infinito che ancora nell'aprile dell'anno successivo non molla e picchia duro. 3 e 5 aprile 1998, Gualdo Tadino, 4.7, 4.5 della scala Richter. La gente ha esaurito la disperazione e le lacrime gelate da un inverno che in queste zone non si smentì, arrivò puntuale col suo carico di neve e di ghiaccio a rendere difficile, estrema una situazione e una vita che stentava a ritrovare la normalità nei 4.000 container installati. I numeri della protezione civile che seguì tutte le fasi dell'emergenza parlano di 76 comuni coinvolti, 33.000 edifici danneggiati, 22.604 persone, oltre 9.200 famiglie costrette a lasciare le proprie case. Una macchina dei soccorsi che dimostrò di funzionare bene e che ha fatto scuola. Tra vigili del fuoco, forze dell'ordine, esercito e volontari si toccarono anche le 10.000 persone messe in campo, ma a fare scuola fu anche la fase più delicata del dopo emergenza, la ricostruzione. A oggi il 96,4% degli evacuati nel 97 è rientrato nelle proprie case, il 92% degli interventi finanziati è stato ultimato con una spesa che comprende le risorse statali, quelle comunitarie e quelle destinate a specifici interventi di 4.968.000 euro. La ricostruzione di Nocera Umbra, Sellano, Massamartana, è il cosiddetto modello Umbria, quello vincente perché è basato sul ruolo centrale delle istituzioni locali, sul coordinamento regionale, sulla trasparenza, la ricostruzione che ha cancellato i danni ma ha fissato in perpetuo il ricordo di un dramma di tutti.